Ma sai, mi chiedi di commentare, però c'è tanti allenatori, 60 milioni di allenatori qua che da casa fanno valutazioni sulle altre squadre, la Serie B è guerrita, lo sappiamo tutti, chiaramente gli infortuni, il discorso mentale tra tante piccole cose, però poi ripeto io lavoro l'intera settimana con i miei giocatori, non sto certamente a pensare, a guardare quello che dicono gli altri, insomma ripeto, da chiacchiere a buon mercato, abbiamo recuperato, Barecca non ce la farà domani, benedetti qualche chance, come una gran bella squadra, sicuramente ci sarà da combattere, loro grinta, carattere, impegno, dedizione, una bella squadra, tante belle geometrie, giocano tutti grintosi e chiaramente ripeto, partita complicata, però da noi in casa, non l'ultima spiaggia, ma sicuramente importante per noi e per loro, hanno fatte tante valutazioni del caso, ripeto, c'è da giocarsela con maggior impegno rispetto alle ultime due, là dove abbiamo un po' peccato di mancanza di attenzione, però ripeto, il nostro pubblico ci darà una mano e questo è quello che a noi occorre per rimanere ancorati a quel sogno che sono i playoff, ecco. Grazie.